Grazie per noi perché è stato l'art director, il direttore artistico del disco, quello che ci ha guidati, ci ha dato una grande mano fino alla fine, anche di sera, ha risolto un sacco di problemi, Lino Pariota! Grazie. 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 Stiamo entrando nell'era dell'acquario, l'era della fratellanza e dell'amore universale. Non è vero, ma ci credo. 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 Non è vero, ma ci credo.